Il cane di razza Golden Retriever è originario della Scozia ed è il risultato dell'incrocio tra Retriever e Spaniel. Questo cane è nato con attitudini verso la caccia da riporto, ma oggi è utilizzato con risultati eccezionali nel primo intervento, da corpi speciali di polizia e di protezione. Il carattere del Golden Retriever è quello di un animale abituato a vivere in ambienti aperti. Risulta essere un buon candidato per l'adattabilità alla vita in appartamento. È un cane collaborativo nelle sue mansioni e nella vita quotidiana, per questo motivo ha ben poca tolleranza a stare da solo. Il Golden Retriever è raddestrato e piuttosto adatto come primo cane. Lo standard di razza Enci lo descrive come un cane di taglia media, con un torace rialzato e piuttosto impostato, per consentire al cuore di trovare lo spazio adeguato tra le costole, che risultano essere ben cerchiato. Il tutto in grande armonia con il cranio. Lo standard di razza Enci ammette il mantello fitto, con grande attenzione alle colorazioni, che non devono mai evadere i canonici color crema e il più vivo color dorato. Caratteristiche principali del Golden Retriever sono l'assoluta affettuosità verso la famiglia, con un rapporto molto amichevole con i bambini e la capacità di adeguarsi magnificamente nel rapporto con gli sconosciuti. Il Golden Retriever da salvataggio è il perfetto esempio di quanto questo animale sia in grado di instaurare un rapporto di collaborazione con l'essere umano, come un perfetto cane da lavoro. La razza Golden Retriever, indipendentemente se Golden Retriever americano o Golden Retriever britannico, ha un pelo lungo. Il Golden Retriever ha un peso medio tra i 25 e i 34 kg e una longevità media tra i 10 e i 12 anni.